ciao a tutti da maurizio di moto.it benvenuti su recensito se state cercando un corpetto protettivo questo mx soft pro di acerbis a mio parere fa davvero al caso vostro perché perché un corpetto con massima protezione sulla schiena addirittura livello 2 e sulle spalle livello 1 e poi anche con il parassassi frontale ma quello che stupisce maggiormente è il livello di finiture anche al tatto è davvero molto bello sia il tessuto sia questo effetto gommoso delle scritte però ovviamente quello che importa su un prodotto come questo è la protezione quindi andiamo a vederlo un po più nel dettaglio intanto protezione sul petto come potete vedere c'è questa cerniera che permette anche nel caso di rimuovere la protezione sul petto che è formata da tanti strati poi possiamo apprezzare la forma che vi facciamo notare è fatta apposta per l'utilizzo del neck brace tanto è vero che come potete vedere su queste due bretelle c'è anche un materiale antiscivolo quindi permette al neck brace di aderire ancora meglio poi abbiamo la protezione morbida giriamo il manichino la protezione morbida sulle scapole e all'altezza dei reni a proposito di altezza di reni guardando in questa posizione possiamo vedere le regolazioni regolazioni che sono di due tipi abbiamo la prima ovvero il gancio materiale plastico bello resistente e poi abbiamo il velcro quindi per una massima regolazione per un perfetto fitting poi nella parte posteriore sempre accessibile per mezzo di una cerniera abbiamo il paraschiena che vediamo se riesco a farvelo vedere come dicevamo all'inizio e qua si vede al numerino è di livello 2 quindi il massimo della protezione andiamo a sganciare anche il secondo gancio e a fare la prova di indossabilità infiliamo prima un braccio purtroppo non sono agevolato dall'orologio aggancio con il primo e poi col secondo gancetto in materiale plastico perfetto come potete vedere abbiamo protezione sul petto dicevamo in più strati protezione livello 2 sulla schiena protezione di livello 1 sui gomiti e sulle spalle quel poco che posso notare muovendomi davvero molto morbido che una tallone di achille di alcune di queste pettorine che hanno una parte interna piuttosto dura adesso addirittura io ho le maniche corte quindi lo sentirei subito è davvero morbidissimo l'interno quindi sicuramente non creerà le solite fastidiosi irritazioni sulla piega delle articolazioni sembra quasi di non averlo indosso che è sicuramente un vantaggio quando si parla di pettorine e nel salutarvi tenendo indosso mx soft pro vi ricordo che è disponibile in un solo colore ma una cosa che dovete assolutamente tenere ben presente è che ci sono diverse misure quindi dovete provarlo ci sono tre misure diverse e quindi a seconda della vostra fisionomia dell'altezza del vostro tronco dovrete scegliere la misura adatta è importantissimo quando si parla di protezione soprattutto protezioni per la schiena e infine il prezzo che è di 209 euro e 95 poi se siete curiosi di vedere questo prodotto ma anche gli altri della gamma acerbis vi consiglio di andare a vedere il sito che è www.acerbis.it e poi prima di salutarvi vi ricordo seguiteci sul canale youtube sui nostri social e soprattutto scrivetemi per parlare di questo prodotto ma anche di tutti gli altri che vi mostro a recensito ciao a tutti da maurizio di moto.it vi aspetto alla prossima puntata ciao a tutti ciao a tutti